Un programma presentato da Buonasera e benvenuti a Pianeta Alma, il nuovo spazio di approfondimento di Fano TV dedicato alle vicende dell'Alma Juventus-Fano che abbiamo voluto inaugurare per seguire meglio questo decisivo finale di campionato di Serie D. Certo sarebbe stato preferibile inaugurare questa serie di trasmissioni all'indomani di una vittoria quella vittoria che non è arrivata ieri nell'anticipo pre-pascuale contro l'Atletico Ascoli soltanto 1-1 alla fine di una partita in cui l'Alma ha molto sofferto l'iniziativa ospite in cui però era riuscita a passare per prima grazie al gol di Mancini salvo poi farsi raggiungere in una circostanza che vedremo assolutamente rivedibile. Inauguriamo questa serie di trasmissioni ospitando il presidente dell'Alma Juventus-Fano Salvatore Guida, buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti voi. Credo che la delusione provata dai tifosi dopo questo pareggio che mortifica ulteriormente le belletà di salvezza dell'Alma appartenga non soltanto appunto alla platea dei tifosi ma anche alla dirigenza. Assolutamente sì e dico prima di tutto che le speranze non sono svanite del tutto quindi abbiamo ancora 5 partite da giocare, 15 punti disponibili cercheremo sicuramente di fare del nostro meglio affinché possa essere dato un segnale importante. La sconfitta di Senigallia e il pareggio con l'Atletico Ascoli poi sono arrivati in un momento chiaramente dedicato dove adesso anche la piazza vuole qualche risposta qualche scossone diverso che noi cercheremo di dare al fine di poter contribuire al meglio in un'eventuale salvezza. È chiaro sono ore di riflessione, sono momenti dove noi della dirigenza ci sentiamo di fare il massimo per questa squadra e per questa città che anche io ho imparato ad amare. E mentre vediamo scorrere le immagini della gara del Mancini a proposito di riflessione dopo che prima della partita con l'Atletico Ascoli era stata riaffermata la fiducia in Manoni questa fiducia dopo la partita con l'Atletico Ascoli è in qualche modo, in qualche misura venuta un po' meno? Ma guarda non si tratta di fiducia, si tratta di risultati come per me sono tutti responsabili e non lo è nessuno è vero che il mister è quello che poi alla fine storicamente paga sempre per tutti in questo caso non dovrebbe essere così, per me sono tutti colpevoli e sono tutti bravi quindi cerchiamo di ricompattare le fila al fine di poter prendere le scelte migliori per questa società. Diciamo però che dopo la larga vittoria, anche in attesa per certi versi contro i Chieti ci si augurava uno sviluppo diverso di questo finale di stagione è arrivato il pareggio, tutto sommato recepibile con la Matese poi la sconfitta con l'Aquila e lì c'entravano molto i meriti dell'avversario e poi però sono venute altre prestazioni, a parte quella con il Campobasso che pure aveva alimentato la fiducia decisamente negativa come quella di Senigallia contro pure un avversario di statura e quella con l'Atletico Ascoli che come vediamo appunto anche dalle immagini ha avuto sicuramente più opportunità dell'almo ma soprattutto ha imposto il proprio gioco per lunghi tratti. Assolutamente sì ed è questa responsabilità che vorrei cercare di capire che io do a tutti perché fondamentalmente si può perdere, questo l'ho detto anche ai tifosi quando ho chiesto scusa si può perdere ma l'umiliazione di Senigallia è stata pesante loro lo hanno vissuto come un derby perché è il loro derby fondamentalmente non è ancora il mio derby però lo sentivo come lo sentiva la città perché poi alla fine sono il presidente della squadra e ti devo dire quell'umiliazione lì veramente non mi è andata giù nonostante questo è seguita la partita con l'Ascoli dalla quale mi sarei aspettato probabilmente una prova diversa una prova che mi aspetto nelle prossime settimane perché si può anche andare giù, si può anche essere sconfitti però serve la grinta, serve la dignità per dire almeno io ho combattuto fino all'ultimo secondo. Gara anomala quella con l'Atletico Ascoli perché condizionata dal forte vento il vento c'era però per tutte e due le squadre l'Atletico Ascoli ha dato dimostrazione di un impianto di gioco di un'identità oggettivamente diversa. Il rammarico appunto è per il fatto che tutto sommato l'Alma la stava vincendo questa partita poteva anche sulla difensiva condurla in porto e si è fatta invece sorprendere abbastanza banalmente in un episodio che possiamo anche rivedere perché abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle due reti che hanno deciso la partita in particolare partendo da quello che ha consentito all'Alma di passare in vantaggio c'è questo lungo spiovente di Pier Federici calcola decisamente male la traiettoria del portiere dell'Atletico Ascoli che compirà un'ingenuità simile anche nel finale e Mancini è sicuramente pronto a sfruttare questa situazione. In quel momento lì il presidente guida della tribuna ha creduto che potesse essere la giornata favorevole considerando che l'Atletico Ascoli aveva già sprecato prima e avrebbe sprecato anche verso la fine del primo tempo. Ci ho sperato tanto, ci ho sperato tanto però vedi le partite bisogna guadagnarsele bisogna vincerle veramente col sudore bisogna vincerle veramente con ogni arma possibile sai ho letto qualche commento nell'ultima giornata il nuovo acquisto, il vento quindi non si può sperare di vincere una partita col vento quindi io lì avevo bisogno di una prova di carattere io lì pretendevo una prova di carattere una prova di carattere che quest'anno c'è stata per centomila problematiche ma non per quella giusta, quindi non per salvarci è quella la cosa che veramente non mi va giù ed è questo sulla quale questa società in queste ore si sta interrogando mi serve il carattere. Andiamo a vedere anche nel dettaglio quello che è accaduto a metà ripresa, rimessa laterale in zona d'attacco per l'atletico Ascoli difesa schierata, anzi schieratissima una correzione di testa poi Minicucci viene quasi accompagnato all'interno della rigore da Dubaz che poi è anche sfortunato perché la palla lo colpisce inarcandosi in pratica alle spalle di Guerrieri che sin lì era stato provvidenziale in almeno un paio di occasioni. Sì, guarda, penso che le sto rivedendo adesso insieme a te perché io da ieri non ho voluto rivedere nulla nel nostro gol, nel loro gol La ferita ancora sanguinava Eh sì, sanguina ancora ma sanguinerà ancora per parecchi giorni e ti dico rivedendole sì, io come detto prima non do colpa al ragazzo quindi non do colpa a Dubaz non do colpa all'allenatore Ovviamente non si fanno processi Esattamente, io do colpa Esattamente, alla prova alla prova che secondo me non è stata una prova di carattere non è stata quella prova che io da qualche settimana sto chiedendo a tutti quanti quella prova che ho visto col Chieti quella prova di carattere che io ho visto nell'unica partita col Chieti giocata veramente col coltello tra i denti e che mi sarebbe piaciuta poter rivedere ogni settimana Se vogliamo anche con il Campobasso qualcosa di simile Assolutamente sì Poi il risultato, è chiaro, il risultato lo dà il campo c'è una squadra che può essere tecnicamente più preparata perché ricordiamoci che in ogni caso questa è una squadra composta all'85% da giovani una squadra giovane una squadra che conosciamo le responsabilità Soffre magari più di altre della situazione in cui si è venuta a trovare Soffre più di altre anche perché gli over, quindi i senatori nello spogliatoio ce ne sono veramente pochi E un paio se ne sono andati per infortunio Un paio sono andati per infortunio Di Calumbo in particolare di Tomassini che peraltro è più giovane Qualcuno durante il calciomercato insomma ha lasciato questo lido per volere della società che mi ha preceduto ma io sono qui neanche a colpevolizzare chi c'è stato prima chi c'è stato dopo perché quello è un alibi Io non sono abituato a ricercare alibi Io voglio risultati, quindi voglio certezze voglio risposte e voglio soluzioni La soluzione in questo caso è sono delle prove determinanti sono delle prove che ci possano permettere di salire su la classifica di partecipare ai play-out eventualmente quindi a un ripescaggio come ti dicevo, la speranza è l'ultima a morire Andiamo a vedere i risultati con il pareggio dell'Alma in casa con l'Atletico Ascoli che si coniuga al successo del Vasto Girardi nello scontro diretto con la Mattese che consente ai molisani di scavalcare la formazione Granata in classifica, in coda alla gradatoria Tivoli che come vedremo tra poco sconfitto in casa da Roma City perde a domicilio anche la Sora per mano di una Vigor Senigallia in grande crescendo mentre continua a deludere il Riccione sconfitto anch'esso in casa da un Termoli che invece nella zona a rischio si sta allontanando classifica impietosa nei confronti della squadra Granata che scivola al penultimo post questo significherebbe oggi retrocessione diretta la quota salvezza è molto lontana e l'obiettivo più realistico resta quello di guadagnare questi play-out assolutamente sì i play-out per due motivi importanti il primo chiaramente è che hai play-out ti giochi giustamente la partita e puoi sperare in un risultato ma partendo chiaramente da una posizione di classifica non favorevole mettiamola così se finisse il campionato presto mentre invece però ci darebbe spazio e accesso ad un eventuale ripescaggio che potrebbe essere la scelta migliore comunque la cosa che conta è non allontanarsi dalla quota non superare il minotto dall'ultima altrimenti l'ipotesi play-out svanirebbe automaticamente c'è sempre speranza sempre noi avremo sempre speranza questa è una dichiarazione di intenti vedremo se è suffragata chiaramente dai fatti perché andiamo anche a dare un'occhiata a quelli che saranno gli impegni che attendono la formazione Granata di cui è la conclusione della stagione a regolare tre le partite in trasferta due quelle in casa il prossimo 7 aprile alla ripresa si andrà a Tivoli scontro diretto e si sa negli scontri diretti la posta vale doppio poi Roma City in casa squadra in salute e anche attrezzata due trasferte consecutive a Sora contro una squadra che probabilmente in quel momento non sarà ancora tranquilla quindi l'Avezzano in trasferta bisognerà valutare quale sia la posizione di classifica dell'Avezzano attualmente ancora coinvolta nella lotta per i play-off infine Real Monterotondo al Mancini è difficile prevedere oggi in che condizioni arriveranno le contendenti a quel 5 maggio un calendario comunque molto impegnativo che offre appunto però tre scontri diretti in cui se l'Alma sarà all'altezza della situazione marcare la differenza assolutamente sì anche perché poi fra queste qui come abbiamo visto alla schermata prima ci potrebbero essere anzi ci sono squadre che da questo campionato non hanno nulla a che pretendere che magari non premono sull'acceleratore ovviamente non si spera sul non far giocare gli altri per vincere noi bisogna entrare in campo veramente ascia coltello fra i denti come vi pare e bombe ma bisogna cercare di fare sempre i tre punti in ogni caso però i scontri diretti vanno vinti io ricordo ancora lo scontro diretto l'ultimo che ho visto sui social prima di venire in società come presidente che era quello col Termoli e veramente anche quella era una partita da dover vincere però il presidente Guida è ormai su piazza da qualche settimana evidentemente nel frattempo ha potuto prendere le misure a questa realtà innanzitutto la prima domanda si è pentito di aver acquisito l'anno Juventus Fan no mai mai e mai me ne pentirò perché è una città meravigliosa ci sono dei tifosi meravigliosi con il quale ieri ho avuto un confronto piacevole mi fa piacere ascoltare anche le loro impressioni i loro consigli a caldo ai quali non mi vergogno di dire sono andato sotto la curva anche a Senigallia a chiedere scusa per la vergognosa sconfitta secondo me quindi era il minimo che io potessi fare per queste persone che ogni domenica se c'è il sole c'è il vento c'è la pioggia sono sempre là a sostenerci allora l'altra domanda è ha trovato quello che si aspettava? ho trovato quello che mi aspettavo in termini di città e di squadra ho trovato quello che non mi aspettavo in termini di dinamiche interne ad uno spogliatoio ad una società e dirigenza perché purtroppo sono situazioni che puoi verificare soltanto vivendole così come in alcune piccole cose che magari mi aspettavo diverse però purtroppo non lo sono state tali però si corre ai pari e si sistema tutto la nuova proprietà è stata nel frattempo chiamata a mettere mano ad una serie di adempimenti da questo punto di vista a che punto siamo? ma guardi siamo bene perché fondamentalmente già chi ci ha preceduto il debito parliamo prima del piano economico e poi sportivo il debito diciamo era stato già spalmato e quindi noi stiamo normalmente adempiendo a quelli che sono state un piano di rientro già fatto dalla precedente proprietà e abbiamo pagato sì qualcosa che c'era di vecchio ma nulla di impossibile e mentre invece dal punto di vista sportivo stiamo cercando di costruire e cercando di portare anche il brand di questa squadra quindi il marchio di questa squadra anche fuori dai confini della città ci aspettiamo di conservare la categoria della serie D perché così ecco anche insieme l'anno prossimo possiamo considerare di avere un brand un nome diverso che possa uscire anche fuori da Fano questa è una sorpresa che daremo più avanti sperandoci di festeggiare il conseguimento della serie D in particolare sul fronte delle pendenze ai tesserati qual è la situazione? ma guardi le pendenze ai tesserati fondamentalmente non erano un peso prima quindi non erano un cancro prima e non lo sono adesso non sono né migliorate né peggiorate sono state sanate quelle che erano delle situazioni che c'erano è chiaro che adesso a cinque partite dalla fine tutto interessa penso anche ai tesserati forché l'alzare la mano e dire io non posso ha colpito in generale la tifoseria e comunque l'ambiente questo grande dinamismo del presidente Guida e anche il fatto che non dico prometta Maria Monti ma comunque si esponga su una serie di iniziative che verranno e che sembrano anche prescindere da quello che sarà il risultato del campo assolutamente sì perché fondamentalmente il calcio è un'azienda è un'azienda atipica ma pur sempre un'azienda quindi io guardo l'Alma Juventus Fano come una mia azienda c'è un progresso di crescita che ovviamente passa anche per il campo per quelli che saranno poi i risultati futuri che fanno da padrone per il calcio però questo non può fermare il punto di vista del brand non può fermare il punto di vista della crescita della società dei propri tifosi degli impianti delle infrastrutture che mi aspettavo una vicinanza anche da parte dell'amministrazione diversa che devo dire purtroppo non mi par di averla trovata Florida o non mi par di averla trovata vicina a quelli che erano i miei intenti non so le intenzioni di chi c'era prima io sono abituato a giudicare quello che vivo non quello che hanno vissuto gli altri sì il dinamismo del presidente semplicemente giusto ma semplicemente perché sono un accentratore e perché purtroppo da quando ero un bambino mi hanno insegnato che le cose che fai da te le fai meglio si parla di azienda ma è possibile esprimersi in questi termini qualora bisogna essere realisti l'alma scendesse in eccellenza si vince l'eccellenza sì io mi auguro sempre di non scenderci in eccellenza però nel caso dovesse esserci questo nefasto risultato dal campo si farà una squadra per vincere quell'eccellenza nell'immediatezza campo permettendo ovviamente è un campionato difficile specialmente nelle Marche quindi non mi va di dire si vince sicuramente però sicuramente si proverà a vincerlo immediatamente per uscire da quello che per me è veramente un fango però mi auguro davvero di non arrivarci anche con i play out con i denti aggrappandoci con le unghie salviamo questa categoria che è importante tutti uniti per salvarla nel frattempo ritieni di aver devellato lo scetticismo oppure no? guardi sicuramente no perché fondamentalmente anche ieri i tifosi mi hanno detto noi dobbiamo acquistarla questa fiducia però non mi sono contrari e questa è una cosa che mi fa piacere io non ho fatto nulla per danneggiare questa società questo l'ho lasciato fare agli altri non l'ho fatto io io sto cercando semplicemente di migliorarla di limitare i danni di quello che è stato fatto in precedenza questo è tutto cioè arrivare al compimento alla fine di questa stagione avendo limitato un danno che oramai già era stato fatto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sportivo se riuscirò a far questo già sarà una mia piccola vittoria poi dopodiché dal primo di luglio questo l'ho detto anche ai tifosi giudicheranno quello che è l'operato nostro perché si partirà con noi quanto è frustrante prendere in mano una società nel momento in cui non si può ad esempio operare sul mercato ed è evidente di quali necessità avrebbe avuto bisogno questa squadra in sede di mercato troppo frustrante spiegarlo a parole non da segno io lavoro sette giorni su sette ventiquattro ore su ventiquattro sono reperibile sempre anche in questi giorni dove il campionato si è fermato ma da questa mattina si sta lavorando in interrottamento in interrottamento chiedo scusa per dare un segnale uso la parola come me l'hanno detta ieri i tifosi uno scossone a quest'ambiente abbiamo parlato o meglio accennato all'impiantistica l'immagine dello stadio Mancini in questo senso è purtroppo indicativa di una condizione che non può essere quella ideale al di là della categoria che l'Alma sta frequentando o che sarà chiamata a frequentare ma guarda io ho letto anche un po' la storia di questa società e un po' la storia di quello che è avvenuto negli ultimi 10-15 anni ti dico che lo stadio Mancini è sicuramente facicente ed è uno stadio che andava risistemato già nel tempo si parla di progetti fatti progetti già compiuti progetti pronti a metterli in opera però io vedo lo stadio sempre in queste condizioni qui abbiamo delle strutture come uffici della società che sono meno di un capanno delle attrezzi di una villetta in montagna abbiamo due impianti di allenamento dove in uno dovrebbe addirittura giocarci la nostra Under-19 nazionale che probabilmente dire vergognosi è dire poco sia nel nel manto erboso che nel terreno di gioco che nella struttura che l'accompagna abbiamo degli spogliatoi che sono stati fatti nuovi ma fino a qualche settimana fa se cadeva qualche gocciolina d'acqua dentro i kiway dovevano essere usati anche dai nostri calciatori mentre si cambiavano quindi sicuramente andrebbe rivisto quello che è stato fatto per questa società che poi è la prima società della città l'unica società della città l'unica squadra di calcio che porta anche il nome della città ritengo sia stato fatto veramente veramente poco non entro nel merito di quali risorse siano state stanziate chi le abbia prese chi non le abbia prese chi abbia fatto chi non abbia fatto perché ripeto io non giudico quello quando io non c'ero però da quando sono arrivato il mio grido d'allarme su questo punto qui è abbastanza evidente mi sono confrontato in questo con l'amministrazione uscente mi sono confrontato in questo con tutti i candidati delle prossime elezioni ognuno di loro ha fatto la sua promessa ognuno di loro ha dato il suo impegno per questa società poi lascerò che la città i tifosi tutti possano raccogliere le promesse se saranno mantenute oppure no non sta a mai giudicare e mentre come promesso vediamo i due gol con cui Roma City ha battuto i elettivoli tra l'altro il secondo ha richiamato le gesta di Gonzales che quest'anno ha colpito due volte da metà campo un'ultima considerazione qual è invece il rapporto con il mondo impreditoriale fanese per come si è potuto sviluppare in queste poche settimane allo stesso modo dei tifosi loro stanno imparando a fidarsi stanno prendendo fiducia pian pianino si vedono dei risultati ci sono tante aziende che vogliono partecipare tante aziende che sono state nel corso degli anni allontanate tante aziende che invece hanno perso fiducia perché non si sono riconosciuti con una proprietà che ha fatto delle scelte diverse per non dire infelici o quant'altro perché diverse semplicemente diverse quindi io ritengo che pian pianino sia un percorso da poter fare insieme un passo alla volta grazie Salvatore Guida presidente dell'Alma di Ventus Fano grazie a voi per averci seguito pianeta Alma vi aspetta venerdì prossimo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti